Oh mio Dio amici miei, oh mio Dio, è tutto vero, è tutto come avevamo detto noi nel nuovo Pass Battaglia, ci sarà anche la skin di Iron Man Oh mio Dio, quando ho visto queste immagini non ci potevo credere, è vero, è ufficiale, ci saranno tutti i supereroi dell'universo Marvel Che spettacolo, sono dei geni assoluti sviluppatori di Fortnite, se ci pensiamo 10 season fa era uscita la season 4 con questi fake eroi E mentre giocavo le mie partite pensavo come sarebbe figa una season con i veri eroi, ma è impossibile che Fortnite vada a mettere i veri eroi dell'universo Marvel all'interno del gioco E 10 season dopo eccoci qui a parlare di Iron Man e Thor all'interno di questa nuova season Questa immagine qui che è ufficiale, è tratta dal fumetto in game all'interno del gioco di Fortnite Ovviamente abbiamo l'eroe protagonista, l'eroe principale, non protagonista perché sarà Thor Però l'eroe principale di questa immagine che è ovviamente Iron Man Che troveremo all'interno del pass battaglia come troveremo all'interno del passo tutti quelli che sono all'interno di questa immagine Però c'è un segreto che vi vado subito a svelare Perché oltre ai supereroi dell'universo Marvel, quindi anche Growl Questo personaggio qui è She-Hulk, è Hulk in versione femminile Poi abbiamo ovviamente Tempesta degli X-Men Dottor Doom, H a destino e anche Mistica Però se ci fate caso ci sono anche delle skin che conosciamo bene Che appartengono al mondo vero e proprio di Fortnite Infatti abbiamo il Bright Bomber, la skin Raven e anche il Signor Kit Se ci fate caso però queste skin non vengono mostrate per la loro integrità Ma sono sempre nascoste Addirittura il Sargent Kit ci dà le spalle E in quest'altra immagine addirittura c'è anche Lynx e Bananita Bananita che abbiamo trovato anche qui però non ve l'ho detto Perché guardate un po' dove è vicino anche al Dottor Wolverine Credo proprio che il Signor Wolverine insieme alla Bananita Saranno le skin segrete di questo nuovo pass battaglia Se ci facciamo caso infatti Wolverine sembra un po' nascondersi in mezzo a tutte le altre skin Ma le news non finiscono qui Mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche Lasciate subito like a questo video E all'interno del negozio oggetti amici miei Only one code Questo è l'ultimo passaggio che dovete fare per ottenere il pass battaglia season 4 Completamente gratis Quindi mi raccomando non ti perdere questa incredibile offerta Perché appena terminerà questo video ci sarà la mia live Dove andrò a regalare 100 pass battaglia Io si faccio il numero 10 ma sono 100 pass battaglia Tutti per voi e tutti sono esclusivi dei miei supporters Quindi mi raccomando inserisci anche tu R4SCO all'interno del tuo support a un creatore Io comunque ve lo devo dire siete anzi siamo dei grandi In questa season abbiamo previsto il mondo E ci abbiamo preso su tutto Io sono davvero strippato quando succedono queste cose Ormai mi potete chiamare Nostradamus Davvero sono felicissimo di questa cosa E occhio perché c'è un player Vi devo dire ancora tantissime cose Sbarazziamoci di lui al volo Occhio perché è dietro di noi Ah ok è un botting Arrivederci amico mio Grazie mille per aver partecipato Non so se ci sono altri player Ma come io vi avevo predetto l'uscita di questa nuova season 4 Attenzione perché tra pochissimo andremo a parlare anche dell'evento Che ci sarà e vi spero anche come ci saranno questi eventi Occhio perché è atterrato qualcosa No ma i predoni non li reggo Guarda mi hanno fatto pure danno maledetti Su tutte le cose che devono fare all'interno della nuova season Una su tutte è cambiare e togliere questi maledettissimi predoni Mi danno troppo fastidio e sono anche troppo forti Secondo me sono più forti C'è qualcuno che lancia le granate E non sono i predoni Attenzione Mi è venuto a pushare Non ci credo sono mezzo morto per colpa dei predoni Regà ma sono troppo forti Ah ok li abbiamo eliminati tutti quanti Meno male No e ti pareva dopo i predoni è arrivato un player No non ci credo dai Ma arrivederci signor Gerolamo Mamma mia meno male che l'abbiamo preso alla sprovvista Ma ci sono altri player non ci credo Basta Qualcuno mi ha hitato dal nulla così per divertire Eccolo il vigliacchetto Lo andiamo a pushare regà come va va sono troppo fomentato Ok Oh mio dio è ufficialmente sopra di noi Non è affatto Ma dove è andato? Ma dove è andato regà è scomparso Facciamo una cosa saggia Spostiamoci di qua sicuramente lui tanto deve uscire per forza Io in realtà avrei visto anche un bel shieldone che quasi quasi mi vorrei prendere qui sulla destra Però prima dobbiamo assolutamente killare questo tizio Guarda dove è andato è scappato dall'altra parte Che vigliacco Prima mi sparo e poi scappa Hai capito com'è? Eccolo Attenzione fermati a fare qualcosa Brava Bright bomb No no Oh ma ce n'è una Ok 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 Siamo ufficialmente in tre Ok in quattro Sparano anche altri Mi ho lasciacchinare a me Io faccio una cosa molto molto astuta Spero Ok no blef Astuta molto molto poco astuta Mi volevo prendere in realtà quello shieldone di cui vi parlavo poco fa Mamma mi sa che non ci possiamo muovere perché siamo tutti quanti fermi Io però me la devo fare la mia giocata Mi devo muovere anche perché Shieldini qua davanti profumatissimi mi li prendo al volo E per forza anche shieldone però Vediamo un po' Eccolo là caro shieldone Rimani Sono due shieldoni? Gustosi Anzi facciamo una cosa con la strategia che abbiamo utilizzato per il torneo Uno ha giampato vicino a noi Ci andiamo a prendere i nostri cavoli e ce li mangiamo perché abbiamo scoperto che ci danno davvero tantissima vita E c'è uno qua davanti che sta giampando Ok si si sta giampando ufficialmente Vediamo se riusciamo a fargli una bella cecchina tozza No 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 Ok è l'ora del cavolo E a proposito del torneo dell'Apple amici miei Credo che finalmente vedermi una svolta Perché dei giocatori si sono trovati in lobby La skin appunto dell'Apple Quindi molto presto l'avremo tutti quanti all'interno della nostra lobby Ovviamente chi ha fatto 10 punti o superiori all'interno del torneo Io comunque avanzo Lui mi ha visto Io gli faccio questa cecchina da furbetta Che purtroppo non gli facciamo nulla Peccato Ma non abbiamo per niente mazzo regà Ok utilizziamo Ok no abbiamo proprio finito i mazzo Mamma mia siamo in una bruttissima situazione Io mi prendo un po' di high ground No pensavo facesse il passentino in avanti Ok shieldone per forza Mamma mia che brutta situa Attenzione in 15 dal nulla L'unica cosa che ci può salvare è una cecchinata furbetta Ok Blef Sono morto Non ci può più salvare nulla Se non questa pompata Vediamo se riusciamo a farlo cadere Noi tanto siamo morti Oh 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 no Ok bella 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 Sono successe troppe cose Troppi fight Quando io vi volevo semplicemente far vedere Questa immagine qui Che già ve l'ho messa all'interno del video di ieri E vi sono andato a cerchiare il martello di Thor Però attenzione mi ha sfuggito una cosa palese Amici miei ma se ci spostiamo leggermente sulla destra Ma questo è il signor Galan Assurdo Fortnite aveva predetto tutto quanto Adoro questo gioco E per ricollegarci al discorso che vi ho fatto all'inizio video Non so se poi ve l'ho detto Ma credo di no Perché sono successo una marea di cose Le skin che abbiamo visto Che già conosciamo Quindi Raven Il bombarolo lucente Kit E anche Lynx Che le vediamo in questa prospettiva Di vedo o non vedo Perché come vi ho detto Sono nascoste Credo proprio che le vedremo all'interno di un altro pass battaglia In quanto penso che la Epic andrà a mettere due pass battaglia Quindi uno solo ed esclusivo Eroi Marvel Quindi quelli che sono compresi all'interno di questa immagine Più ovviamente Thor Ed un altro normale con le skin del gioco Ci sarebbe la grandissima questa cosa Se pensiamo semplicemente al ritorno economico Che avrebbe l'Epic Games In quanto in tantissimi Se andrebbero a shoppare entrambi i pass battaglia Io ovviamente sarei uno di quelli Perché non posso stare senza pass battaglia E ve lo ricordo Se voi non vi potete shoppare nessun pass battaglia O comunque ve lo potete permettere Però lo volete comunque gratis Dal momento che termino questo video Passate al volo all'interno della mia live Perché andrò a sorteggiare 100 di voi che utilizzo dal mio supporto a un creatore Per dargli 100 pass battaglia Completamente gratis Ora correte andate qua sotto nei commenti E scrivetemi secondo voi Qual è la skin di questo pass battaglia Il personaggio che vi piace di più Sono davvero curioso di sapere Quali sono le vostre preferenze Oh mio dio abbiamo trovato una pistolina oro Di nuovo Dai ce la portiamo dietro questa volta Perché sono davvero curiosissimo Il mio regà è assolutamente Il signor Tony Stark H Iron Man Io guardate sono davvero curiosissimo Di andare a vedere tutto quello Che andranno ad implementare Speriamo che davvero i predoni Li vadano a rimuovere Perché sono davvero ostinati Quanto meno Riducono la loro forza Perché sono davvero OP Oh e tu cucciolino Vediamo se la pistolina oro Ok no La pistolina oro Abbiamo capito che non è per le lunghe gittate Comunque un ventifurbetto Gliel'abbiamo tolto Anzi direi ci avviciniamo Lo spottiamo Abbiamo Oh 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 Questo ragazzo ci prende Una cifra Oh stai calmo Ok credo che fightare Non sia la cosa più giusta Comunque noi riprendiamo l'energia Ok ce ne siamo qui a mollo Io mi continuo a fare Anzi io mi inizio a fare un po' di mazza Che non me lo siano fatti per niente Perché se dobbiamo fare un fight così La vedo molto molto difficile Oh E maledetto Ma ci prende tantissimo È davvero straordinario Con l'assalto Mettercene andiamo saltellanti In safe Nella speranza che quel tizio Con quella mira assurda Non ci spari O quantomeno non abbia il cecchino Perché altrimenti siamo davvero fritti Vi vado a parlare di questa Questa problematica degli eventi In quanto come ormai Vedi se siete d'accorti Non c'è stato l'evento fine season O meglio Non c'è stato il solito evento Di fine season In quanto il libricino comics Per quanto riguarda fortnite E quindi l'epic games È una sorta di evento Perché è una cosa eccezionale Che non si è mai vista prima E quindi fortnite L'ho andato ad intendere Come evento Fine season 3 Ci sta Certo Vedere un bel evento Con un'animazione Sarebbe stupendo Però io sono sicuro Che all'interno Uh che bello questo bump Ma No grazie Mi tengo il mio Sono sicuro Che all'interno del filmato Inizio season 4 Ne vedremo delle bellissime Perché ci sarà ovviamente Il filmato Introduttivo E vedremo finalmente Lo scontro tra Il signor Galan Thor E tutti gli amichetti Di Thor Che sono venuti Che sono corsi In salvataggio Addirittura Del mondo Del mondo Di Fortnite Una cosa importante Che va sottolineata Amici miei Che probabilmente Tra le altre cose Ci ho preso anche qui Ora vedremo Durante il corto Di questa season 4 Ma come già vi avevo predetto Un po' di giorni fa All'interno di questa season Abbiamo potuto vedere Una sorta di mini evento Ovviamente mi riferisco Ai nostri amici coralli E a tutto quello Che hanno creato Quindi l'evento del razzo E l'evento Il mega event Perché è stato Anche se è durato pochissimo È stato davvero piccolissimo Però è stato davvero figo Vederlo Dell'esplosione nucleare Ecco Penso che Fortnite Abbiate stato un po' Questo effetto Dei mini eventi In game E io devo dire Che ci sono piaciuti Davvero tanto E all'interno di questa Nuova season 4 Sicuramente vedremo Dei mini eventi Magari con la durata Maggiore Perché sono sicuro Che ci saranno Degli scontri Tra le forze del bene Della Marvel E le forze del mare Della Marvel Nel mentre Qua davanti Hanno sparato Aiuto Oh c'è un player Qua sotto Credo Sputtiamo così Randomaticamente Per non sapere Nell'agene scrive Non vorrei che ci sorprende Qualcuno dal nulla Occhio si Official C'è un playerino Vediamo se la nostra Pistolina oro Farà il suo effetto Lui è bunkrato Là dentro Non ho nessuna intenzione Di andarlo a pushare Anche perché sono sicuro Che appena spariamo Ok Un 23 misero 24 24 Bah Io direi che possiamo avanzare Ci facciamo queste sguazzette Al volo Prima che succedano Guai Oh Al Al fucile carico Eh sì Oh Olè A casa Quarta che c'aveva Questo qui Eh Arrivederci Pistolina oro Lo faccio per una giusta casa Ovviamente Arma mitica Si prende sempre E Chuck Chuck Let's go No Mi faccia prendere il mio Chuck Chuck Grazie mille Occhio perché siamo rimasti in nove Ora abbiamo la possibilità Grazie a questo UG mitico Di sparare anche dalla lunga gittata Dobbiamo prenderci Assolutamente Eccolo lì Ho visto un playerino Eh questo tizio non se ne vuole andare Attenzione top 5 dal nulla Oh mio dio Non mi dite che facciamo l'ultima victory royale Proprio con la bright bomber All'interno di questa season Dobbiamo stare molto attenti però C'è un player dietro di noi che sembra Ok eccolo lo vedo Fermo No 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 Oh Maledizione Mi fate killare questo qua sotto In santa Pa No guarda tu Sono sceso come un lumacofano Perché questo mi spara Dai che andiamo in 4 almeno Niente questo tizio ce l'ha morto con me Mi tira sempre delle hit a me Siamo in 5 ma vuoi sparare anche agli altri Niente ok che siamo in 4 E ovviamente il numero è ridotto Però insomma amico mio Farei una cosa sinceramente Ok spostiamoci così E vediamo un po' la situazione come va Soprattutto se riusciamo a portarci a casa La kill di questo essere qua sotto Che non ho idea di dove sia andato Ok lo vedo Guardate 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 questo birichino eh Vediamo questo essere Niente non si muove Ah eccolo 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 Adesso spari eh schifo setto Scendiamo ancora scendiamo ancora Andiamo giù 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 Ok Oh Ehi lo sapevo che Guarda 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 L'ha fatta apposta No no Non siamo riusciti a sfuggire C'è lui il signor dandy Che c'è stato addosso dall'inizio fino alla fine Allucinante Amici miei peccato che non è uscita la win royale Per questo ultimo game Di fine season 3 Ma sicuramente ci rifaremo alla grande all'interno di questa nuova season 4 Ora voi dovete fare solo una cosa Se ancora non avete lasciato like a questo video Lasciatelo subito ora E dovete venire assolutamente in live Perché andremo a vedere tutto quello che accadrà all'interno di questa nuova season Quindi mi raccomando iscriviti al canale Attivando la campagna di notifiche Il mio supporto a un creatore è stra importante Per ottenere dei vantaggi esclusivi all'interno del mio canale E se volete vi lascio anche un'opzione di due video Che sicuramente ancora non avete visto Quindi magari cliccate sull'uno o cliccate sull'altro Insomma andate a vedere il video che vi piace di più Anche se io ve lo ricordo vi aspetto in live Ci vediamo prestissimo con tante altre news E le stra